Sirente Bike Marathon, il 19 maggio ad Aielli in provincia dell'Aquila, la sfida sui sentieri dei briganti. Aielli con i suoi colorati murales, la torre delle stelle, immersi nella natura del parco regionale Sirente Velino. Aielli nel cuore della Marsica, nel cuore della mountain bike, Sirente Bike Marathon, la sfida in mountain bike sui sentieri del parco Sirente Velino. Sirente Bike Marathon per chi ha voglia di mettersi alla prova con gli altri o semplicemente con se stessi. Due tracciati, il marathon di 71 chilometri e 1800 metri di dislivello e il percorso granfondo di 35 chilometri e 1120 metri di dislivello. Vieni sui sentieri dei briganti, Sirente Bike Marathon.